Non ci sta Chiara Galli, la sua è una presa di posizione forte che nasce da una propria convinzione. Si è voluto escludere la sinistra civatiana dalle elezioni regionali. L'ex segretaria del PD Montevarchino, per anni assessore nella giunta Valentini, ha affidato ad un comunicato stampa la sua amarezza per l'esclusione dalla lista delle candidature. Nella proposta fatta dalle unioni comunali, ha detto la Galli, c'erano due candidati del comune di Montevarchi, Tartaro e Galli. Di questo criterio anagrafico ne ho fatto le spese io e non Tartaro e non si capisce perché. L'esponente del PD ha ricordato che il regolamento regionale indica criteri ben precisi per la scelta delle candidature. Principio della parità di genere, radicamento territoriale, proiezione regionale, competenza, pluralità e apertura alla società. La mia candidatura, ha aggiunto, rispondeva a tutti questi parametri, anche perché faccio parte di una corrente del partito, quella civatiana, che non sarà rappresentata nelle liste regionali a retine. A seguito di ciò il coordinatore regionale della lista Civati, Filippo Gallo, si è dimesso dalla direzione provinciale a retina e tutto questo, ha aggiunto ironicamente la Galli, perché risiedono in un comune sbagliato. La colpa infatti è mia. Abito lungo il borro del tredicesimo, dalla parte sbagliata. Di là dal ponte c'è Bucine, mi bastava abitare cinque metri più in là ed era fatta. Per la rappresentante del PD, la situazione che si è creata in provincia di Arezzo, ha la sua origine nel percorso di selezione dei candidati proposto e mal gestito dai segretari dei comuni valdarnesi e nella volontà di rovesciare il tavolo da parte del partito di Cavriglia. Potevamo continuare consultando gli iscritti sulle due candidature femminili rimaste. Invece, ha continuato la Galli, è stato detto che non aveva senso, con due donne non c'era Frizzo. Si rischiava il flop delle consultazioni. Incredibile. Adesso gli scenari per Canaragalli non sono rosei. È possibile infatti che venga messa a rischio l'elezione di un consigliere valdarnese. Forse qualcuno ne sarà contento, ha concluso. Io non sarò tra quelli. Di sicuro qualcuno ne avrà un vantaggio elettorale ma sarà un successo costruito sulla divisione del valdarno e la squalifica della componente della sinistra civatiana della provincia di Arezzo.